Ciao ragazzi, bentornati in un nuovissimo video, bellissimo, mamma mia quanto è bello questo video Iscrivetevi al canale e lasciate like perché adesso inizia il Winterfest, sono le 15 Pronto, Winterfest? ECCOLO! Che vantaggi per i membri! Che vant... Che... Ehm! Dovrebbe essere questo, forse Azione Delta Plano Tavola Sguardo Dorato, ricompensa Fortnite Riscatta Non lo voglio E quindi? Dovrebbe... dovrebbe starci Devo riavviare Mezzogna e me ne comincia Dov'è? ECCOLO! C'è... A me è caduto il joystick che ti pareva Abbiamo un regalo, lo vedete là in alto? In alto a destra ragazzi, lo vedete? Andiamo? Olè? Vado! Visita il rifugio! Clicca, vai! Benvenuto! Mezzinverno presenta Scarto regalo gratuito giornaliero per 14 giorni Guarda qua quanto è bello! Ma posso aprire qualsiasi regalo? Oddio! Allora, un momento Prima di tutto E... vado qua Posso aprire già quello che voglio? Questo, questo Questo, scegli me Scegli me Ragazzi! Mi dovete dire voi Quale regalo apro per primo? No, la banita ancora non posso prenderla È ancora ghiacciata ragazzi Quale prendo? Quello hacker Questo? Sento rumore ambigo Aia Nella botte piccola c'è il vino buono Quindi un regalo piccolo volete dire Ragazzi non lo so C'ho l'ansia Un pochettino d'ansia Quello grande Quindi questo qua Ok ragazzi dai Apriamo questo qua Eh ma non me lo fa aprire Eh no Aspetta un attimo ragazzi Un momento Non mi fa aprire il Il regalo E quale mi fa aprire a me? Questo qua grande me lo fa aprire? Eh questo grande sì Allora apriamo questo qua ragazzi Apriamo questo Vai apriamo Tra 3 2 1 Tieni premuto Oh Ci siamo ragazzi Ci siamo Sbam Olè Abbiamo subito la pala Bella pala Bella Che tot Non lo so però se Dite che è abbastanza utilizzabile Non lo so se è utilizzabile Però Facciamo equipaggia E andiamo così Basta non posso aprire più niente Vero? A meno che tipo non si bug Ammelo a far aprire un altro No torna ogni giorno Per aprire un regalo nuovo Mannaggia la vacca Ragazzi mi dovete dire voi Che cosa avete trovato Adesso io vi consiglio Di andare dove c'è il cammino Dove si fa aprire il cammino? Qua? Eccolo Ragazzi se voi vi state Rimanete qui con la schermata Sul cammino Vi danno XP extra Che ve ne danno Aspetta ho visto il X Ve l'ho detto pure l'altra volta nel video Se mi sbaglio 10 20 100 1500 XP Dipende Va a fortuna Possono variare dai 10 Ai 5000 XP Che non si buttano Quindi rimanete qua Io adesso voglio un attimo Aspettare Voglio vedere se me lo da Dovrebbe darlo Adesso Nel 2019 era così Hanno liccato che quest'anno Era pure così Quindi E il pacco della skin Che gli da la skin Dovrebbe essere questo Ora vi faccio vedere Dovrebbe essere questo qua Dove è ghiacciato Vedete questo qua tutto è ghiacciato E dovrebbe essere L'altro non lo so qual è Forse è questo qua grande Che non lo fa aprire Può essere Vedete questo qua quanto è grande E penso sia questo qui Ragazzi io vi ringrazio Per aver visto questo video Mi raccomando tantissimi like Ci vediamo prossimamente live Se il mio computer Un giorno sopra Risuscita in qualche modo E ciao a tutti